Il notaresco viene sconfitto 3-2 in casa dal Fano ma riesce ugualmente ad arrivare agli spareggi che porteranno poi ai play-out. Alla prima occasione al nono il Fano passa in vantaggio, Zingaretti ci prova dalla distanza siderale e sorprende Sciba per lo 0-1. Il notaresco prova a reagire al decimo Defendi servito da Scimia in aria, non trova la conclusione giusta e al dodicesimo lo stesso Scimia servito da Gelsi Sciupa. Al quindicesimo è gelo al Savini, drolet pescato in aria, in sacca in diagonale lo 0-2. Il notaresco si riversa in attacco al ventesimo Defendi libera da due passi Romano che ha tu per tu, si lascia ipnotizzare. Al ventiquattresimo i padroni di casa riaprono la gara, Gurinia da in mezzo a Gelsi, sfera che giunge a Romano nei prezzi della porta e stavolta è 1-2. Al quarantatresimo è Scimia a proiettarsi in avanti, tiro dal limite respinto e Romano manca clamorosamente il tapin. Inizia la ripresa e il notaresco si riversa in avanti. Al primo Scimia dalla media distanza e Bizzini alza in angolo, poi al sesto conclusione di Gurini sporcato in angolo e sugli sviluppi Romano la mette dentro però in fuorigioco. All'undicesimo Gelsi serve in area Defendi ma la sua sforbiciata è alta. Al ventiseesimo arriva il pareggio, fallo di mani in area di Antonioni e Romano, trasforma il rigore del 2-2. In una rara affolata offensiva il Fano torna in vantaggio, punizione magistrale di Nappello è 2-3. Non succede più nulla dopo il triplice fischio scontri a distanza tra le tifoserie sedati dalle forze dell'ordine e il notaresco che per giocare i play-out salvezza dovrà prima spareggiare col Montegiorgio. Sì, non ci voleva questo passo falso, la partita non è iniziata come volevamo, noi abbiamo disputato un'ottima gara, abbiamo creato tanto, abbiamo rischiato poco o nulla tranne forse alla fine in quanto dovevamo recuperare il risultato e dovevamo fare gol ma credo che tutto sommato la partita l'abbiamo condotta su larghi tratti creando tanto. Poi c'è poco da commentare e i gol li avete visti quindi sono gol fortunosi, sono stati gol frutti diciamo di qualche leggerezza. Però non posso dire nulla perché la partita l'abbiamo fatta, i ragazzi sono stati incomiabili e c'è rammarico perché con un punticino di oggi andavamo a fare gli spareggi ma questo purtroppo è un problema che ci portiamo dentro da tanto tempo, non riusciamo a gestire i momenti della gara, non riusciamo a stare dentro la gara per tutti i 90 minuti e oggi l'abbiamo pagata a caro prezzo. Noi abbiamo fatto una partita nostra, una partita aperta, la potremmo perdere, la potremmo vincere, ho preservato i ragazzi di fidata, hanno giocato tutti i ragazzi che magari dall'inizio non hanno giocato per dargli la possibilità. Sul 2 a 2 abbiamo rischiato anche di andare sotto. Il calcio è così, quando ti gira male, già il primo gol di Zingaretti, il terzo su punizione, sono tutti euro gol, ti fa capire che è una stagione un po' particolare per il notaresco che è sfortunata. Noi abbiamo cercato di fare cose onestamente, di fare la partita nostra e dopo il campo ha dato questo perdito. Ma come l'anno scorso è stato l'entrino col Monte Giorgio, dopo uno fa la partita, è così, bisogna comportarsi onestamente per come vedo io. Grazie a tutti.